Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Cos'ha tempo prima, ma non si vedeva nulla, lo so, ma volevo troppo iniziare prima il vlog. Adesso, come vedete dal titolo, con il tuo vlog vado al cinema con mio padre, ma oggi pomeriggio, ma la mattina devo andare a Tresigno, Tazzo, non ricordo più, della scuola, non ricordo più come si chiama. E niente, ci vediamo dopo. Adesso posso dire quale film, andiamo a vedere, Thor Love Stunner, ce l'ho fatta, perché l'inglese non è un po' più, il mio forte, anche l'italiano. Comunque, vado, perché a me mi piacciono i film della magia, e poi così posso tascarmi un po' alla spira, che ho bisogno. E poi, niente, e sono stanco, ma non per fare il video, perché mi diverto morto. E poi, non per fare il video, niente, gioco con il cellulare, e poi ci vediamo dopo, quando ho finito lo stadio della scuola. Stavo menticando, sto facendo un vlog, ma ho menticato, è causato anche per il casino. Sto accendo che adesso sto, mi sto rilassando, e poi andiamo al cinema, ma a dopo. Siamo partiti adesso per il cinema, quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, sono arrivati a casa adesso, non ho ritratto nulla, perché la batteria è rossa. E adesso è sotto carica. E niente, il mio padre non gli piace, perché a me mi ha fatto ridere. Quindi mi piace, mi piace il film. E poi siamo andati a mangiare a casa di nostra amica Anna. Adesso siamo qua. E la giornata è finita qui. Quindi se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale. Ma prima di solitarvi, se una volta vita è grigia, sorridete, perché avete una vita sola. Alla prossima, ciao!